Il parco più importante di Pesaro sta facendo crescere radici conservatrici grazie ad attivisti legati alla salvaguardia dell'ambiente. Più comprensione, sensibilità e consapevolezza. Questi i requisiti richiesti per una migliore gestione di questo importante patrimonio pubblico. Sono più o meno tre anni che sta succedendo qualcosa che contrasta con la stessa nascita, gli stessi scopi del parco. Una gestione abbastanza sconsiderata del patrimonio verde che questo parco ha ereditato dal passato, ha progettato, ha curato, ha gestito, ha mantenuto. Fino a che è subentrata un'idea di parco tipo giardino condominiale, cosa che questo parco non è mai stato. Questo parco è sempre stato una cosa differente, facciamo fatica a farlo capire. È sempre stato un parco unico nel suo genere con una quantità di aspetti veramente straordinari che altri parchi nelle miglia romagna e nelle Marche non hanno. Un bosco è fruibile quando ci sono dei sentieri. Quel bosco che è stato tagliato, che è qui dietro, il bosco dei Susini, aveva sentieri, aveva alberi che sono stati eliminati accuratamente con quattro interventi col trinciatutto. E noi ci chiediamo qual è lo scopo. Se lo scopo è quello di rendere più visibile la situazione, per rendere più facile l'azione delle forze di polizia, noi ci domandiamo ma se i monumenti vengono imbrattati dai writers, buttiamo giù i monumenti? Per quanto riguarda l'area naturalistica, in questi ultimi tempi si è presentata questa visitazione come se fosse una riscoperta, anzi una riapertura, come se fosse stata un'area preclusa alla città da decenni, sembrerebbe. In realtà la situazione è completamente diversa. Diciamo che ogni terza domenica del mese era possibile visitare l'Oasi accompagnata da una guida naturalistica. Io personalmente l'ho fatto almeno una decina di volte, quindi qualsiasi cittadino pesarese lo poteva fare. Quello che noi come associazioni e cittadini che ruotano intorno alle associazioni stesse chiediamo che ci sia da parte dell'amministrazione una presa in carico seria, consapevole e competente, in cui questa ricerca di dialogo da parte delle associazioni non sia vissuta come un'intrusione o un'ingerenza o una rivendicazione di saper fare le cose meglio. Noi siamo portatrici e portatori di interessi di una collettività che chiede che un valore venga gestito in maniera competente e se possibile partecipata. Va in qualche maniera cambiata sostanzialmente la narrazione per la quale noi siamo quelli che siamo contro tutto e tutti, non è così. Abbiamo più volte documentato i motivi delle nostre istanze e tant'è vero che per quanto riguarda la questione dell'evento che si svolgerà domenica ci è stato detto che noi non vogliamo che la gente frequenti il parco, non è assolutamente vero. Noi siamo a favore dell'evento che si svolgerà domenica, però siamo anche convinti che la sicurezza all'interno del parco non si raggiunga con interventi spot di questo genere, ma si possa raggiungere in qualche maniera portando la gente al parco quotidianamente. Quindi giusto per sfatare anche il fatto che noi siamo quelli del no e non siamo propositivi, noi nel corso del tempo abbiamo formulato diverse proposte che sono state completamente ignorate. Grazie. Grazie. Grazie.